A Teramo l'associazione Robin Hood ha registrato un incremento di segnalazioni da parte dei cittadini su presunti invidi ufficiali giudiziari per pignoramenti a seguito del mancato pagamento delle utenze. In particolare l'associazione segnala una condotta anomala di alcune società di recupero crediti che stanno generando allarme per gli equivoci che spesso vengono alimentati da una certa propensione al terrorismo psicologico da parte degli operatori del call center che comunicano di mandare a casa il recupero crediti per il pignoramento se non si paga entro un termine in genere sette giorni. Era opportuno precisare ai consumatori che questa procedura, la procedura realizzativa del pignoramento è una procedura che determina una serie di tututele, c'è un percorso da fare di carattere giudiziale e soprattutto che l'autorità giudiziale, quindi il soggetto abilitato a fare queste cose è un pubblico ufficiale, quindi non è un addetto qualsiasi. Rispetto a queste richieste di visita ci si può rifiutare in quanto è del tutto privatistica la richiesta e quindi uno a casa sua fa entrare chi vuole e quindi se non vuole far entrare questi soggetti non li fa entrare e poi c'è un'altra tutela che va messa in pista che è quella di verificare sempre che colui che ci chiama, che ci dice di rappresentare una società che può essere di telefonia, del gas, della luce, dell'acqua, sia un soggetto che abilitato perché sappiamo tutti che dietro a queste operazioni molte volte si nasconde un'attività che è invece di carattere delinquenziale. L'associazione Robin Hood segnala anche un atteggiamento non lecito in violazione del codice di condotta stabilito dal garante della privacy, infatti spesso vengono contattati vicini o parenti per raggiungere il presunto debitore. In tal senso e anche per falsa attribuzione di titolo pubblico l'associazione sta predisponendo un dossier a sostegno di un esposto per far valutare gli estremi di reato penale. Vogliamo andare in fondo a questa situazione? Nel passato mi pare in tre circostanze diciamo l'autorità giudiziaria hanno poi proceduto diciamo di conseguenza riviando al giudizio delle persone che si erano spacciate per appunto ufficiali giudiziari che non lo erano.